Buongiorno a tutti, iniziamo oggi il capitolo 11, intitolato Nasce la civiltà comunale. Siamo a pagina 232-235, che trattano della rinascita delle città del nord Italia, la borghesia e i comuni. Oggi vedremo il significato di questi due termini nuovi e molto importanti. Allora, innanzitutto ci ricordiamo bene che prima dell'anno 1000 la gente viveva nelle campagne intorno ai castelli. Era un periodo di pericolose invasioni, l'abbiamo detto più volte, abbiamo parlato degli Ungari, dei Saraceni, dei Normanni. Bene, avevamo detto molto chiaramente che di fronte a tutte queste invasioni i signori feudali più potenti costruiscono dei castelli e la gente, i contadini, si radunano attorno a questi castelli per ottenere protezione. E nascono così i feudi e il sistema feudale. Vi ricordate bene che avevamo parlato anche dell'economia di questi feudi e l'avevamo descritta come un'economia autosufficiente, di sussistenza e chiusa. Quindi i commerci erano molto scarsi al tempo. Bene, tutto questo prima dell'anno 1000. Dopo l'anno 1000, ovviamente non da un giorno con l'altro, non dal primo gennaio dell'anno 1000, ma con l'undicesimo secolo, dall'anno 1000 in poi, piano piano, abbiamo parlato di una grande ripresa economica, se vi ricordate nel capitolo 9. Si ha una grande crescita della produzione agricola e in più, questo non l'avevamo detto, grazie alle crociate di cui abbiamo parlato nello scorso capitolo, si aprono nuovi commerci verso l'Oriente. Questi due fattori generano una grande rinascita delle città. Se prima la popolazione era distribuita soprattutto nelle campagne attorno ai castelli, adesso le città tornano a essere densamente popolate e tornano a essere pian piano sempre più ricche, soprattutto nel nord Italia. Bene, si sviluppa nelle città la borghesia. Nasce un nuovo ceto sociale, appunto la borghesia. Cos'è un ceto sociale? Un ceto sociale significa un gruppo sociale. Significa che se nella città prima c'erano le persone, erano soprattutto contadini, cavalieri oppure militari e sacerdoti e religiosi, adesso nasce tutto un altro gruppo di persone che fa diversi lavori, i cosiddetti lavoratori autonomi, ovvero lavoratori che non dipendono da nessuno, ma che guadagnano i propri soldi con il proprio lavoro. Sono mastri, cioè artigiani, mercanti, notai, banchieri, medici. Bene, tutte queste nuove professioni formano la borghesia, sono i borghesi, ovvero persone che autonomamente guadagnano grazie al lavoro della loro professione. Nelle città queste persone, questi borghesi, la borghesia diventa sempre più importante e avanza a pretese di governo nelle città. Vuole ritagliarsi un proprio spazio nel governo delle città. Nascono così i comuni. Vediamo che cos'erano i comuni. Allora, la parola comune viene da comunis, che il latino significa di tutti. Quando parliamo dei comuni, quindi, parliamo di città, di una città governata da tutti i suoi abitanti, non da uno solo. Prima della nascita dei comuni, le città erano regolate e governate dai rappresentanti dell'imperatore, quindi dai vescovi conti o dai grandi feudatari. Adesso, con la nascita di questo nuovo cetto sociale, della borghesia, nascono i comuni, ovvero delle città governate da tutti i suoi abitanti, non da uno solo. All'inizio, però, all'inizio dell'undicesimo secolo, quando la borghesia inizia a nascere, la parola comune indicava innanzitutto un accordo privato fra i borghesi più influenti, che volevano prendere il controllo della città, che era in mano, appunto, al vescovo conte. Quindi all'inizio si tratta di un accordo fra pochi borghesi, quelli più influenti, che vogliono ritagliarsi parte del potere politico della città. Da accordo privato fra pochi diventa una vera e propria forma di governo cittadino. Col tempo, quando si parla di comune, non si parla solo di un accordo privato fra alcuni borghesi, ma si formano dei veri e propri parlamenti cittadini, ovvero assemblee di tutti i cittadini, o meglio, di tutti i borghesi, convocate per fissare delle leggi. Quindi sono dei veri e propri organi di governo, si occupano di governare le città. Da questo momento in poi, quando si parla di comune, quindi, si parla dell'intero gruppo di cittadini che governa autonomamente la propria città, senza dover obbedire agli ordini del rappresentante dell'imperatore. O meglio, spieghiamo meglio questa questione. Le città rimangono sotto il dominio dell'impero germanico, ma l'imperatore è troppo lontano per far esercitare davvero il suo potere, è troppo lontano per far rispettare la propria autorità. Quindi cosa succede? Che i comuni, che questi gruppi di cittadini, questi gruppi di borghesi, diventano sempre più autonomi e indipendenti, di nascosto, senza che l'imperatore se ne accorga. Cosa significa? Che si prendono sempre più poteri. Si prendono il potere, per esempio, di emanare leggi. Decidono loro le leggi per la propria città. Un secondo potere è quello di riscuotere le imposte, ovvero le tasse, che era una prerogativa dell'imperatore, ma che i cittadini, che queste assemblee, questi parlamenti di borghesi, iniziano a fare. Iniziano a esercitare, a riscuotere per conto loro. Amministravano la giustizia, ovvero sceglievano loro i giudici dei tribunali. E in ultimo difendevano loro la città costruendone mura. Tutto questo senza farlo sapere all'imperatore. Ora, i comuni, questo fenomeno della nascita dei comuni, è tipico dell'Italia centro-settentrionale, ovvero della pianura padana fino anche all'Emilia Romagna e la Toscana. Nel centro-sud non succede, non nascono i comuni, le città rimangono legate ai vecchi sistemi di governo, ai rappresentanti di altri poteri. Perché? Innanzitutto perché c'è un forte potere centrale. Cioè in quelle zone c'è il patrimonio di San Pietro e ci sono i normanni. Quindi a nord, abbiamo detto, nascono i comuni perché l'imperatore è lontano e non riesce a far rispettare il proprio potere. Nell'Italia centro-meridionale invece i poteri forti sono molto più vicini. Il secondo motivo è uno sviluppo economico diverso. Nelle città del sud non c'è, non avviene uno sviluppo economico dirompente e importante come nelle città dell'Italia settentrionale. Bene, ricapitoliamo velocemente. L'undicesimo secolo è un secolo di cambiamenti. Abbiamo detto, scusate, che prima dell'anno 1000 la gente viveva nelle campagne intorno ai castelli e i commerci erano scarsi. Dopo l'anno 1000, quindi con l'undicesimo secolo, vi è una grande crescita della produzione agricola e ci sono nuovi commerci con l'Oriente, grazie alle crociate. Le conseguenze di questi cambiamenti sono due. Una grande rinascita delle città e la nascita della borghesia nelle città del nord Italia. Che cos'è la borghesia? La borghesia è un ceto sociale, cioè un gruppo sociale di persone, che fa una serie di professioni libere e nuove. Sono medici, sono banchieri, sono notai, sono mercanti e sono anche artigiani, come per esempio fabbri. Tutte persone che guadagnano soldi grazie al proprio lavoro e non devono darlo a nessuno più in alto di loro. Ciò che guadagnano se lo possono ottenere. Queste persone si arricchiscono e diventano sempre più potenti. Infatti nelle città avviene un cambiamento nella gestione del potere. Prima i poteri di governo delle città erano nelle mani dei feudatari o dei vescovi conti, che amministravano un territorio o una città per conto dell'imperatore. Dopo invece, dopo tutti questi cambiamenti, le città diventano comuni, dove i borghesi prendono il potere togliendolo gradualmente ai vescovi conti e diventano sempre più indipendenti dall'autorità imperiale. La domanda da cui ripartiamo nella prossima lezione è come reagirà l'imperatore a questa sempre crescente autonomia e indipendenza dei comuni. Prima o poi, un imperatore potente e deciso lo scoprirà. E vedremo come reagirà. Rifocalizziamo due parole prima di finire la lezione, ovvero borghesia. La borghesia è un gruppo sociale di lavoratori autonomi, banchieri, medici, notari, artigiani, che si arricchiscono e prendono sempre più potere nelle città. Da oggi in poi focalizziamo anche il termine comune. Quando parliamo di comune, parliamo di due cose. All'inizio, il termine comune indica il patto fra i borghesi più influenti per prendere il potere di governo della città. Dopo poco tempo, però, il termine comune indica l'insieme di tutti i cittadini che partecipano all'attività di governo della città. Come vi ho spiegato, si formano proprio delle assemblee, dei parlamenti, in cui tutti i borghesi della città si trovavano a decidere. Ci vediamo la prossima volta, non prima però di aver spiegato l'immagine del capitolo. L'immagine del capitolo rappresenta San Gimignano che protegge la città. È un quadro del 1321, anzi è una pala d'altare del 1321. Perché viene rappresentato un santo che tiene in mano una città? Non dobbiamo dimenticare che per i medievali la religione cristiana era molto importante. Il prosperare della città era legato con certezza alla protezione del santo patrono della città. Ricordiamoci di quella mentalità religiosa cristiana tipica dei medievali. Tutto questo periodo di grande rinascita economica, politica e culturale per le città era sicuramente legata alla protezione del santo patrono della città. bene, ci vediamo alla prossima lezione.